Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4 interamente dedicato a 9 stelle e nello specifico alla carriera dell'attore perché ero troppo curiosa di vedere un attimo come funzionava specialmente proprio sul set quindi dal vivo perché prima che ci giocherò io passeranno un po' di puntate nelle serie allora per fare questo voglio utilizzare i due sim che avete conosciuto nel Crea un sim proprio per l'uscita di Get Famous o 9 stelle Andiamo! Vi ho aperto le opzioni di gioco perché ho intravisto tra le varie questa qui inerente a nuove stelle e in pratica rispetto alle celebrità che erano nel The Sims 3 ripeto io non ci ho mai giocato però sapevo che la fama, la reputazione e tutto era poi non obbligatoria però ormai prendeva tutti i sim, tutte le nostre storie ecco invece adesso se abbiamo una famiglia che della fama non interessa niente possiamo venire qui spuntare questa X e basta è finito quindi non guadagneranno nessun punto fama allora siamo nel cast proprio per farvi vedere i due sim ovvero Grace Adler e Joshua Jackson perché li ho preparato tutti quanti i loro look e ci tenevo a farveli vedere questo è il primo quotidiano mentre il secondo è questo lei è proprio una sciccosa infatti entrambi ambiscono a diventare attori però lei ambisce proprio ad essere famosa 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 questo è il formale guardate lei è pronta a partecipare agli eventi quelli eleganti per ricevere il premio poi sportiva e così da notte da festa questo vestitino bracciale tacchi le trecce questo bellissimo trucco poi costume cosignero con il cappello da caldo un altro vestitino questo comunque sono tutti stupendi i vestiti usciti con questa espansione e poi c'è ammirate il secondo abito da freddo ho messo questo jeans il giubbottino sportivo perché appunto questo è un jeans sportivo anche la scarpetta vedete tipo militare così capelli fatti in questo modo mentre nel primo ha il cappottino più elegante poi JJ ovvero Joshua Jackson allora quotidiani a sia questo che questo preso proprio da nuove stelle il formale è così super elegante lo sportivo è così da notte da festa ha sia questo la giacchetta pantaloni di pelle e mocassini mentre a primo posto ha quello un po' più sportivo tranquillo con gli stivali poi il costume è così da caldo semplice t-shirt jeans lo più shallow rispetto a Grace lo più tranquillone mentre da freddo ha sia un dolce vita con il jeans oppure proprio la giacchettina fatta in questo modo sempre jeans e scarponcini lui al tratto egocentrico diventa l'attore mentre le... eh sì sono entrambi egocentrici sì ok e poi lui in più se non mi sbaglio ha la passione per la musica vivono nella piccola casina base del gioco perché semplicemente ragazzi come vi ho detto voglio soltanto esplorare la carriera di attore e allora cerchiamola ad entrambi attrice gli attori dovranno farsi rappresentare da un'agenzia di spettacolo le luci della ribalta chiamano le telecamere siano puntate e aspetti il momento del tuo primo piano hai il compito di infondere l'energia nelle parole del copione e di dare vita al tuo personaggio comparsa non accreditata paga media 6,40 ok come agenzia che ci rappresenta visto che io ho due attori le vedremo entrambe questo era anche il mio intento per vedere meglio come funzionano quindi lei magari la faccio reclutare da questa qui che sembra più più seria ok anche lui attore agenzia comparse quotidiane allora questa qui ci dice i nostri algoritmi evoluti stanno già abbinando i tuoi parametri relativi al livello di talento caratteristiche fisiche carriera accademica aspettativa di vita e le due azioni disponibili compila e restituisci con sollecitudine per l'archiviazione tutti gli accordi di riservatezza i termini di servizio gli accordi di licenza con l'utente finale i documenti della motorizzazione e moduli per la procura insomma molto serie infatti mentre l'altra benvenuto tra noi Joshua siamo specializzati nel procurare ruoli attoriali di un certo spessore membri talentosi e persone di servizio alcuni riescono persino a ottenere ingaggi che prevedono una pronuncia di qualche battuta cerca comunque di non farti prendere dell'emozione se necessario possiamo anche procurare turni di lavoro da scensola ma loro molto vedete un'agenzia molto più tranquillona in pratica il pannello si apre così e noi qui possiamo controllare le audizioni aperte e scegliere perché le audizioni in pratica il sim si reca al posto per fare appunto le audizioni e noi non lo vediamo se la passa allora possiamo presentarci all'ingaggio ovvero sul set allora a lei hanno dato fare musica spot pubblicitario della schiuma salata ferramenta bladislaus vuoto ballo no lei vuole andare direttamente a fare lo spot pubblicitario sì quindi lei sceglie questo mentre lui visto che si intende comunque un po' di musica di chitarra gli faccio fare questo qua allora quindi gli faccio studiare chitarra deve iniziare martedì alle 9 quindi domani e anche lei martedì alle 9 deve fare il carisma mentre loro stavano sviluppando le abilità io per curiosità ho aperto il calendario e mi sono accorta che proprio in questo momento era iniziato un evento conosci una celebrità nel locale orchidea gogo infatti ci sono appena arrivata e poi venerdì abbiamo un evento normale vetrina dei talenti al club calico ed è quello di brindleton bay sabato vetrina dei talenti evento normale a luge mirastelle e domenica premi delle stelle intanto qui una volta arrivati al locale è uscito una celebrità di fare una rara apparizione allo bar quindi è il momento di fare del tuo meglio o se non altro il meglio del tuo peggio ho visto anche per quanto riguarda l'aspirazione di un attore può esibirsi per strada quindi visto che siamo qua io clicco su di lui e posso interpretare una scena musicale per le manche una scena musicale eserciti a cantare e allora questa qua una scena musicale per le manche ma lui è eccolo la celebrità com'è vestito allora chiedi un abbraccio anche perché lei lo conosce già voglio far finta che tipo grace ha già iniziato a fare nel suo percorso dei spot pubblicitari e tutto quindi è un po' più conosciuta vedete infatti lui l'ha riconosciuta si ricorda di lei magari ma guardatelo ma che bravo guardatelo e lei ha acquisito maggiore visibilità rispetto a Joshua creando dei video sul tavolo lì per fare video e anche perché ha sempre un drone con sé e inizia a fare lo streaming quindi fa tanta tanta fama perché lei registra in diretta specialmente quando frequenta questi locali visitati dalle celebrità per farlo vedere per farlo vedere ai follower chiedi anzi tenta una presentazione vedo che comunque Thorne è molto affabile si lascia avvicinare facilmente coccola i tuoi ammiratori lui adora queste cose chiedi chiedigli anche un autografo un autografo guardate lei noi possiamo anche interagire con i paparazzi posiamo visto che sta facendo foto ehi ci sono anch'io qui guardami eh io sono Chris Adler mi avrei visto sicuro in qualche spot pubblicitario ragazzi sembra fatta apposta lui ha ricevuto anche l'autografo no vabbè è bellissimo anche Thorne ci fotografa yeah amo queste cose ma questo bambino una stela emergente vai Joshua tenta una presentazione poi c'è il butta fuori perché in pratica sopra qui al locale c'è la zona vedete chiusa ma noi possiamo anche vedere all'interno e in pratica non c'è niente perché è chiusa togliamo qua il drone termina lo streaming lui si abbassa e si spegne io me lo metto nell'inventario metti nell'inventario vedete Joshua sta sussurrando della celebrità e visto che c'è tanta gente e ci sono delle celebrità io direi di entrare per fare un'altra interazione molto carina cioè iniziamo a farci un po' conoscere Thorne è all'interno mettiamoci qua allora vai qui insieme in pratica posso cliccare sul mio compagno mio collega di lavoro e interpretare la scena romantica per le mance cioè della serie diamo spettacolo dai magari qualcuno ci nota si stanno preparando ragazzi ok mettiamoci ok mettiamoci così ma tutti sono pienamente concentrati con Thorne eccoli nessuno ci sta guardando ragazzi non funziona no vabbè comunque sono stupende queste interazioni lei Summer Summer ci stava guardando vabbè è stata una bella scena comunque guardate come fanno stories il modo in cui ha pronunciato le battute l'intenzione dello sguardo da svenimento addirittura invece a lui no niente avvistamento di celebrità lui è molto entusiasta invece di trovarsi qui in torno alle celebrità va bene dai lasciamoli così e io continuo sperando che vengano ingaggiati per fare questi spot volevo anche dirvi una piccola cosa no studiando le tendenze qui al tavolo del per registrare i video è uscito tra recensione di bellezza programmazione video blog affertante anche chitarra a questo punto cosa mi è venuto in mente di fare ho messo a suonare lui la chitarra e io sto registrando Josh che suona la chitarra quindi adesso una volta terminata qui la registrazione mi ritroverò un video sulla chitarra quindi metterò hashtag chitarra penso sia un'idea geniale questa perché altrimenti lei cosa avrebbe fatto con la chitarra oppure anche per quanto riguarda la programmazione penso oppure uno si mette al computer a programmare e si si fa aiutare dal drone per registrarsi e creare il video sulla programmazione se avete pensato ad altre cose scrivetemele poi sotto nei commenti perché in effetti ci devono aiutare tantissimo i droni a fare questi video è martedì ed è mezzogiorno i due ragazzi sono appena arrivati dall'adduizione e cosa stiamo facendo perché siamo davanti un laghetto perché in pratica adesso Grace inizierà una registrazione di lei stessa e si metterà a pescare mentre lui esercita a cantare in pratica come è andata entrambi hanno superato l'audizione allora per quanto riguarda quella di Josh non sappiamo bene se tu abbia ottenuto il ruolo per lo spot pubblicitario o un ingaggio come pagliaccio da rodeo dovresti affinare la tua abilità di chitarra per prepararti per il ruolo e magari anche tenerti in serbo del ghiaccio caso mai dovresti metterlo sui lividi inflitti da qualche toro furioso non si sa mai mentre quella di Grace con gratulazioni ha acquisito il ruolo di portavoce dei pirati e poi mentre loro erano all'audizione Grace ha ricevuto proprio questa cosa l'associazione sportiva per la pesca sta cercando una testimonial che la aiuti a promuovere nessun pesce verrà trascurato in pratica lei deve usare la postazione video per caricare il materiale filmato che ho raccolto ma prima di questo con il drone devo recarmi sul luogo di pesca e registrarmi alcune sequenze ok ok quindi basta stoppiamo la registrazione video pesca ok quindi hashtag pesca adesso vado a casa e vado a montare ecco era un altro parentesi per farvi vedere che comunque riceviamo altri ingaggi relativi per quanto riguarda i video fama e tanto altro cioè il problema ragazzi è che adesso entrambi vanno all'ingaggio mercoledì alle 12 oddio come farò a dividermi non ci ho pensato a questo fanno tutto lo stesso giorno lo stesso orario vabbè una volta vedremo Grace una volta vedremo Jane perché ando ve l'ho detto è giusto una per vedere come funziona che cosa combinano sul set una panoramica generale degli studios ragazzi sono arrivata finalmente sul set e questo è in pratica il pezzo di scenario nascosto bellissimo allora in pratica questa è l'entrata qui ci sono vari set decorativi cioè della serie hanno registrato sex in the city o friends su questa strada e questo è il padiglione principale questi altri qui sono tutti finti tutto pieno di macchine le roulotte dove gli artisti vanno dentro a riposare tutto limousine ok comunque come tutte le carriere attive una volta arrivati sul posto di lavoro abbiamo degli incarichi da svolgere come subito farsi pettinare truccare esercitarsi nella recitazione raccontare una storia l'obiettivo principale è completare l'interpretazione e sembra proprio siamo nel far west con lo spot sulla musica come vedete il set è spento perché appunto non siamo pronti qui abbiamo tutti quanti all'opera come il produttore la regista la produttrice l'operatore telecamera fissa una comparsa vestita da supereroina il bello che abbiamo anche il buffet con pizze e biscotti e una cosa carina per esempio alle celebrità più famose il buffet ha pietanze più pregiate e diversa dalla pizza l'ho visto dalla live allora mettiamoci qui ci facciamo pettinare e truccare mentre in questa altra stanza ci facciamo mettere i costumi di scena ovviamente il nostro sim sarà diverso perché pettinare e truccare vuol dire proprio poi mettere una parrucca in base al ruolo che dobbiamo recitare questo qua non mi sembra tanto di fan west sì ma infatti infatti ha sbagliato ok adesso sistema tutta la situazione brava in cipria un po' qui in cipria un po' lì ma guardate Josh come si fa come si sta insomma oh il baffettino ok vediamo che parrucca ci metterà ragazzi ma come gli sta bene questo look le orecchini però non ce li ha tolti vabbè queste interazioni anche sono molto belle ci prendono le misure poi si gira pronto no vabbè ma cos'è ma è stupendo possiamo dire il regista di essere disponibile ma prima esercitiamoci nella recitazione qui abbiamo un voto mostro oddio lei farà uno spot sui voto mostri lui un'altra comparsa invece forse nello spazio andranno loro due saranno colleghi nello stesso film vabbè tu sei stupendo bravo calati nella parte poi dobbiamo raccontare una storia raccontiamola ai nostri colleghi presentazione amichevole amichevole racconta una storia buffa usa interazioni buffe sul set clicca su qualcuno e seleziona interazioni buffe ok oddio ragazzi oh chiedite lo stipendio sì voglio chiedere allora per questo film quanto state guadagnando voi non ce lo dicono però non me l'hanno detto chi è oddio forse devo andare ok presentiamoci qui al regista e siamo anche a ricevere degli appunti l'entusiasmo di pedessoni di chitarra io sono molto bravo sarò bravissimo lo vedrete quindi sono disponibile regista mi metta la prova mi dica tutto quello che devo fare perché io sono nato per questo lavoro ok ok vai vai pure ok perfetto vieni qui che bello interpreta una scena chitarristica interpreta la scena della dimostrazione di un prodotto allora ci saranno molto utili non solo le frecce a terra per farci capire quello che dobbiamo fare e dove metterci ma anche in questo caso i piedistallo allora iniziamo subito con la scena della chitarra e ragazzi io vado sul rischioso perché lui le doti le ha ed è meglio andare sul rischioso vai ciak si gira eh quanto entusiasmo poi ci mettiamo qui e suoniamo la chitarra rischioso io voglio vedere tramite i suoi occhi il regista mentre lui suona giustamente guarda davanti a sé no oddio sono tutti impalati a fissarci ma che ansia ragazzi comunque guardate la regista un po' annoiata vabbè bravissimo bravissimo scena di canto meno male che l'ho fatto esercitare con il canto vai perché è arrivato a livello 4 mi raccomando eh si mamma mia ragazzi che bravo ha guadagnato l'oro allora vediamo un po' qui deve andare anche in bagno però voglio fargli mangiare la pizza alla diavola se la merita chissà lei come è andata io nel frattempo l'ho messa a lavorare sodo ma la vedo abbastanza tesa socializza un po' con i colleghi la prossima volta andiamo da Grace comunque l'ora di lavoro termina alle 20 come vedete qui sono tutti quanti intenti a studiare la parte il set si è spento e il bello è che una volta finito l'orario di lavoro ecco noi possiamo andare o a casa o rimanere nel lotto in questo caso se uno vuole continuare a fare amicizia con il regista con le comparse o farsi un giro qui tra i padiglioni è comodo noi andiamo a casa perché appunto io adesso voglio vedere Grace come si raccava sul set abbiamo guadagnato 490 e fama 2 stelline e siamo stati promossi a comparsa nuove edizioni sono ora disponibili vediamo subito quelle che ci dà adesso come nuove edizioni spot pubblicitario ferramenta vadisla vadislaus si vai con il ferramenta piccola parentesi sul tavolo per produzione video in questo momento Grace sta dando consigli di moda e il massimo dell'abilità è livello 5 e dopo aver raggiunto appunto il massimo ci sono altre due luci da acquistare in più a questa acquitonda e poi nuove interazioni quando si modificano i video bello è che ogni video che facciamo di qualsiasi categoria c'è proprio il disegnino tipo quando ho fatto i video della pesca c'era il disegno della pesca della chitarra c'era la chitarra moda ci sono i vestiti allora possiamo aggiungere degli effetti poi apri questo posso aggiungere delle transizioni dopodiché lo carico online infatti adesso è di qualità buona quindi carico e guadagno più fama mi è anche uscita una notifica qualche giorno fa vi metto magari un pezzo di video che uno dei video che ha fatto Grace ha avuto talmente successo da essere stata inserita in quella vetrina degli eventi cioè a ritirare il premio l'evento di domenica quello importante non sappiamo se effettivamente riteriremo il premio però intanto già che ci hanno preso in considerazione è una bella soddisfazione e questo solo con i video un piccolo esempio sulle reputazioni tra la atroce quindi quella cattiva e quella impeccabile buona anche per farvi vedere che esistono delle cose nuove se arrivate a questi livelli io in questo caso ho usato il trucco perché al momento non penso di avere un sim con reputazione cattiva in pratica è molto semplice basta attivare il trucco dei trucchi testing cheats on e poi cliccare sul sim con il tasto shift sulla tastiera e il click sul mouse come sempre insomma per attivare appunto il trucco dei trucchi il testing cheats on ed esce immagine pubblica imposta la reputazione qui potete scegliere tra l'impeccabile l'eccezionale buona o neutra oppure cattiva terribile atroce le hanno giunti da pochissimo cioè l'ho scoperto in questo momento che finalmente hanno messo i trucchi così almeno posso farvi vedere più cose possiamo aggiungere anche una stravaganza aumentare il livello di celebrità congelare la fama diminuire il livello di celebrità e anche rimuovere però giustamente non può farlo perché non ha nessuna stravaganza ok quindi almeno questo è molto semplice da usare per quanto riguarda la reputazione atroce lui farà molto difficoltà a relazionarsi in maniera romantica con altri sim ma la risposta ragazzi è la corruzione corrompi altri sim per la loro amicizia o i capi per un aumento del rendimento lavorativo la soluzione è sempre il denaro e poi può organizzare una sua personale festa del ridicolo si va qui in pianifica evento sociale festa del ridicolo cosa 500 premi della sfida i premi per il livello d'oro comprendono un trofeo gabinetto fiammeggiante una bambola voodoo oltre a un aumento della fama è una perdita della reputazione di sim presenti la festa del ridicolo sono i raduni del lato oscuro della società criminali disadattati manigoldi si sentiranno a proprio agio a questi eventi estremi nomina un ospite d'onore e mettilo alla berlina con scherzi feroci e storie tratti dal suo passato non c'è dubbio che tutti si divertiranno alla grande mentre per quanto riguarda beh scorsi tutti i video che ha fatto Grace infatti tipo lui ha una stellina per quanto riguarda la celibità lei invece è già due con un altro pezzettino elevato perché sta continuando insomma a fare i video eccetera reputazione impeccabile Grace è un faro splendente di positività passando accanto agli altri sim susciterà salute amichevoli e sorrisi irradiosi gli amici saranno più indulgenti se le capiterà di comportarsi male con gli altri non la giudicheranno troppo in fretta e infine si è guadagnata la credibilità per organizzare la propria festa di beneficenza ragazzi è bellissimo abbiamo anche l'incontro con gli ammiratori una volta che la celibità ha sbloccato le due stelline lei può ricevere soldi fama reputazione in più a livello d'oro anche il premio sezione del sim diventare famosi significa anche incontrare interagire con gli ammiratori organizzare l'incontro con gli ammiratori l'occasione perfetta per rendere i tuoi seguaci dei fidelissimi e poi festa di beneficenza costa sempre 500 i premi per il livello d'oro comprendono un trofeo benefico un cospicuo aumento della fama e della reputazione dei sim presenti la festa di beneficenza sono eventi ampollosi e ricchi di opportunità per socializzare che rende attraenti per i vari esponenti dell'altra società desiderosi di apparizioni positive in pubblico naturalmente l'importante è raccogliere simone per una buona causa e poi voglio farvi vedere che appunto essendo poi diventata una celebrità può anche contattare l'agenzia di pubbliche relazioni non so se l'ho cancellato il fatto sì vabbè in pratica lei chiederà di scrivere una storia positiva su di lei ovviamente una storia negativa oppure di farsi introdurre tra gli invitati in quella festa degli eventi io ho chiesto di scrivere un articolo positivo ed è uscito che l'agenzia ha montato su di lei una storia bellissima tutti quanti ci stanno credendo e lei stava acquistando fama e infatti questo pezzettino era per quella storia positiva insomma così almeno se non riesco a farvi vedere tutti gli spot perché non so a quanti minuti di video sono arrivata queste sono le cose comunque più importanti e mi interessava farvi vedere proprio cosa si sbloccava aumentando reputazione celebrità e altro nonostante abbiamo poi una carriera vedo che ci arrivano offerte di lavoro allora a Joshua appena arrivato l'offerta di lavoro per il fatto che era deputazione cattiva nella carriera criminale mentre a Grace le hanno appena offerte la carriera nei social media e inizierebbe già da livello 3 quindi ragazzi anche anche questo ci arrivano comunque offerte di lavoro tutte queste cose se non ci giocavo così intensamente non le avrei scoperte subito siamo arrivati sul set con Grace e noto la produttrice e la consulente d'immagine guardarsi in cagnesco cioè stavano un attimo litigando comunque lei è qui che si sta preparando per la scena deve pettinarsi truccarsi come sempre ragazzi queste qui sono proprio cose random e guardate il set sicuro farà uno spot vestita da voto mostro perché è una cosa che riguarda i bambini che cosa tenera avevo detto io che era una voto mostra voto mostra carinissima allora siamo pronti ad iniziare vai mostriamo il prodotto dopodiché dobbiamo numero di ballo rischioso e poi quando si illuminerà questa andiamo qui guarda uno cosa deve fare per avere un po' di fama oddio poi per ultimo abbiamo canto rischioso lei non è tanto brava come Josh ha cantato poco cioè quasi due però ha una voce dolcissima bravissima livello oro ok qua abbiamo finito ha fame uh patatine con salsa sì quindi questa volta abbiamo patatine con salsa chili pizza a formaggio quindi cambia sempre però ve l'ho detto il cibo per le celebrità di uno due stelle sono così mentre poi più solamente le stelle più qua vedrete la tavola con la tovaglia rossa elegante e cibo più pregiato ok due stelle 475 andiamo a casa mi trovo davanti qui il lotto quello importante dove avverrà la cerimonia delle primazioni proprio tra un paio di orette e guardate Grace sta posando per le foto e lei in pratica è quasi alla terza stellina cioè meraviglioso e calcolate che entrambi alle 19 hanno anche un'audizione quindi scompariranno io non vorrei che poi Grace davvero mi prenda il premio quando non c'è è l'audizione vabbè io sono venuta apposta qui perché appunto volevo vedere chi annunciavano appena inizia vi registro ci siamo sono in pratica alle 6 allora convinci ad entrare Joshua e Grace vediamo un po' come se la cavano convinci a entrare Elisa Pancake diamo inizio alla musica all'ora dei premi delle stelle l'audizione è tra un'ora va bene va bene mi è convinto cerca però di tenere la larga dai guai capito questa non è una bettola per gente qualunque wow Joshua ha ottenuto accesso esclusivo può varcare la porta chissà dentro si inconderà qualcuno di famoso e io io sono una celebita più famosa di Joshua penso che possiamo entrare siamo dentro allora accomodiamoci qui e ascoltiamo perché tra mezz'ora in pratica loro se ne vanno c'è il presentatore il conduttore Marcus Flex che ad uno ad uno presenterà in pratica le varie cerebrità coloro che hanno preso il premio segni di qua vicino a Grace dai vediamo un po' lei non è vestita super elegante perché appunto non sa se riceverà il premio eccetera ragazzi oh mio dio grazie a sua ultima avventura in un video comico un dramma in costume o una produzione digitale di altro genere Grace Adler ha vinto il premio delle stelle per il miglior video puoi trovare il premio nell'inventario di unità familiare io non ci posso credere c'è Grace grazie grazie mille a tutti non me l'aspettavo ma infatti nemmeno io no vabbè è giusto in tempo per l'audizione lei come una celebrità va via ha ritirato il premio e va nel frattempo qui ci sono le altre celebrità Joshua ha superato l'audizione infatti sono ritornata qui perché io so che l'evento dura fino alle 11 solo che adesso c'è Babbo Natale Babbo Inverno a presentare Clemente Gelo e oh ragazzi volevo dirvi anche Grace ha acquisito il ruolo di portavoce dei pirati oh che carino mentre lui invece sapeva diventare la stella di uno spot pubblicitario diurno a basso costo per un tv locale però vabbè comunque è proprio è differente come agenzia volevo farvi vedere questo sim Dirk Dreamer ragazzi per chi ha giocato a The Sims 2 lui che ha appena vinto il premio anche delle stelle è Dirk Sognidoro è un personaggio di The Sims 2 il papà era l'artista come si chiamava il papà lui in pratica era l'adolescente il figlio del papà sto dicendo bene perché lui erano padre e figlio e Dirk io ricordo che era il figlio comunque ragazzi è un personaggio del 2 infatti qui è una celebrità mentre da come ho capito un altro personaggio famoso proveniente da The Sims 2 è Dustin Brooke in realtà dovrebbe essere Dustin Sventura non voglio aver capito male però ecco ci sono dei personaggi provenienti da lì solo che non gli hanno lasciato il nome originale lei invece Ollie Alto è Alto noi sappiamo che è una famiglia importante sia del 2 che del 3 che qui nel 4 la famiglia Alto non c'è ma hanno dato il nome agli appartamenti Alto ok anche Judith Ward ha vinto il premio comunque voglio far venire qui Grace la cerimonia si è conclusa anche con Dustin che ha ricevuto il premio anche lei ovviamente ha ricevuto il premio e direi di lasciarci qui con questo video approfondirò meglio la carriera d'attore con i vari ingaggi nella serie dei Jones intanto spero che tutte queste retroscena sulle celebrità fama reputazioni vi possano essere utili riprendo registrate le mie amate serie perché mi mancano e visto che JJ e Grace ormai sono famosi potremo rivederli proprio nelle serie chissà ci rivedremo nei prossimi video tanti mi piace e commentini ciao ciao